Allora prima di fare il brindisi No no Aspettate Prima di fare il brindisi Suon? No calma Carletto ci suona una cosina Poi io vi devo leggere una cosa E dopodiché faremo Lui suona proprio tanti auguri Facciamo il brindisi Però bisogna uno che faccia il filmino Fia che ce l'ho Non c'è filmare lui Poi io vado a dire la rosa Non c'è filmare ma Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.